benvenuti o bentornati sul canale portale sanità digitale e sono gennaro ricchi in questo video vi parlo di vpn virtual private network rete privata virtuale questo video non è sponsorizzato declino ogni responsabilità per la possibile perdita di dati derivante dal non corretto utilizzo dell'applicazione sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file pdf di questa presentazione i marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari fatto questo video faccio questo video perché da più medici mi è stato chiesto cos'è la vpn e serve realmente al medico avere una rete privata virtuale allora vediamo prima di tutto cosa cosa fa una vpn la vpn criptografa il traffico tutto il traffico internet nasconde l'indirizzo ip e la posizione virtuale delle dell'utente che si collega internet e che si collega internet a cosa serve serve a proteggere i dati online tutti quei siti web che non hanno l'https cioè che non sono dotati di certificati di protezione s sta per sicuro oppure che non si collegano tramite il protocollo di trasferimento file s sicuro la vpn poi serve per il controllo dei dati che inviano le app dagli smartphone questo diciamo è un utilizzo sicuramente interessantissimo delle delle vpn perché il l'indio dei dati che le app fanno dal dallo smartphone non è non è conosciuto e quindi la vpn in questi casi è altamente raccomandata accedere a siti web bloccati esempio classico dove ci sono delle istituzioni tipo in cina dei governi che bloccano determinati siti web tipo youtube uso di connessioni non sicure wifi pubblico chi si trova chi utilizza un wifi pubblico è altrimenti sconsigliato a accedere a siti tipo home banking cartelle cliniche o quant'altro cioè diciamo tutte quelle a quei siti web che detengono dati sensibili oppure dati personali importanti serve in quei casi in cui non si vuole avere nessun controllo da parte dei service provider l'attività online viene nascosta e l'uso e l'uso di servizi di condivisione file peer to peer non limitazione larghezza di banda perché i service provider a volte per questo tipo di condivisione di file molto grandi peer to peer vengono vengono limitati vengono bloccati o ridotta la larghezza di banda vediamo però prima di procedere che cos'è un indirizzo ip sempre dalla da wikipedia l'enciclopedia libera in informatica e nelle telecomunicazioni un indirizzo ip dall'inglese internet protocol address è un numero del pacchetto ip che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato un computer collegato a una rete informatica che utilizza l'internet protocolo come protocollo di rete per l'istradamento indirizzamento dei dei dati l'ip equivale all'indirizzo stradale o al numero telefonico infatti sono informazioni complete ed univico a livello mondiale similmente all'indirizzo ip quindi adesso vediamo che cos'è l'internet service provider l'internet service provider è il fornitore della nostra connessione della connessione a dsl della connessione a internet un fornitore di servizi internet l'internet service provider poi vediamo la rete privata virtuale la vpn è una una rete privata una rete privata eh eh tradotto dall'inglese in lingua italiana virtual private network agronimo vpn nelle telecomunicazioni una rete di di telecomunicazione privata eh che eh eh funziona eh che eh viene stradata su una rete pubblica qual è quella la rete internet allora qui per semplificare estremamente eh una connessione i dati di navigazione senza vpn dai computer della rete locale o dal computer singolo vengono inviati al modem il modem gli assegna un ip pubblico eh diverso dall'ip locale questo ip pubblico eh diciamo poi eh i dati vengono inviati al service provider service provider internet e internet restituisce poi ciò che l'utente ha richiesto eh tramite il processo il processo inverso quindi come vedete il service il service provider in questo caso controlla e a conoscenza di tutto il traffico che c'è tra eh dall'utente a internet e e e viceversa eh invece per quanto riguarda il percorso dei dati con una navigazione vpn come vedete i dati eh su tutti i dispositivi nella rete locale eh viene installato il software della della vpn e il software della vpn che poi vengono inviati al modem e dal modem al service provider service provider in questo caso non è a conoscenza dell'ip di chi ha inviato i dati eh di quale programma ha usato non può accedere ai dati perché i dati sono incapsulati e criptati e quindi il service provider invierà al destinatario al destinatario che in questo caso è il server vpn che decrypta i dati e poi il server vpn li invia ad internet e così il processo eh il processo eh il processo inverso quindi in questo caso la vpn viene definita eh un tunnel cioè una una strada protetta eh all'interno di quella che è la strada la rete pubblica di eh di internet di vpn eh ne esistono diverse gratuite a pagamento io qui riporto due vpn due vpn gratuite che eh in determinati casi eh possono essere possono essere di aiuto poi se l'utente il medico si collega alla cartella clinica o a siti particolari sempre da eh sempre in luoghi eh diciamo pubblici di sotto wifi pubblico e allora è meglio investire il costo di una vpn a pagamento sono intorno ai due euro al mese comunque esistono anche eh i vpn e le vpn gratuiti le vpn gratuite eh qui io ne riporto due come vedete la funzionalità di questo caso dell'urban vpn eh vedete spiega qui diciamo eh evita le limitazioni del service provider hanno utilizzano server diversi server perché poi la vpn in realtà vi chiede di scegliere su quale server collegarsi quindi diciamo si possono scegliere anche dei server diversi da quello italiano questo viene usato per chi eh vuole fare degli acquisti online e risparmiare perché da alcune eh nazioni i costi di determinati servizi tipo biglietti aerei costano costano meno quindi collegandosi da un server eh presente in un'altra nazione si possono avere dei dei costi più bassi di questi di questi servizi quindi qui spiega un attimino che cos'è la limitazione del del service del service provider che il service provider per determinati utilizzi riducono la larghezza riducono la larghezza di banda riducono la larghezza di banda cosa che invece può con le vpn questo non si verifica. Qual è il limite delle vpn gratuiti? Le limite delle vpn gratuiti è tipo nel caso della urban vpn nella nella loro documento di conformità alla privacy dichiarano che eh tranquillamente che loro la colgono ed elaborano i dati eh ovviamente non il contenuto ma la provenienza diciamo fa eseguono una profilazione eh del dell'utente e vengono conservati questi dati. Invece le eh vpn a pagamento o in genere eh non non eh eh memorizzano nessun dato del nessun dato dell'utente. L'altra vpn gratuita è touch vpn qui vi lascio i link per chi eventualmente è interessato. Le vpn quale diciamo o uno dei contro qual è? E diciamo visto che loro eh le vpn svolgono questa funzione di criptazione del dato per poi instradarlo eh sulla rete pubblica internet ehm la velocità di connessione può eh può diminuire però proprio perché vengono inviati su server eh diversi da quelli da quelli italiani eh da quelli italiani. Io ricordo che qui vi lascio i link che Google adesso mette a disposizione un sistema di test della velocità molto robusta scrivere nella casella ricerca test della velocità di internet compare questa maschera, fare clic su esegui il test della velocità e vi darà il test della velocità di internet. Questo per andare a valutare eh l'acqua e la velocità della connessione con o senza eh vpn. Eh allora dicevamo prima eh quindi per eh in conclusione concludendo diciamo eh rispondere alla domanda eh il la vpn serve o non serve? Allora se il medico si collega eh solo dal proprio studio o da un luogo sicuro tipo casa eh e non visita visi eh visita siti sprovvisti di lucchetto cioè della S dell'HTTPS come vedete questi qui sono i link dell'Inps, Sunnyarp e via dicendo e allora la vpn non serve eh quindi in ambiente pubblico attenzione perché eh può sono essere intercettate e rubate le credenziali che questo del che poi l'utente fa l'accesso ma questo anche per lo banking quindi per qualsiasi tipo di eh di eh di connessione quindi eh se la connessione che il medico fa è da un luogo sicuro dal proprio studio la vpn non serve perché poi come vedete tutti i siti a cui il medico si collega sono siti sicuri cioè sono siti criptati da queste eh da questi certificati eh di protezione eh tenete presente che anche le cartelle cliniche, i software gestionali di cartella clinica quando inviano le ricette online i dati vengono criptati secondo un certificato di protezione rilasciato dal ministero quindi non sono mai in chiaro. Ultima cosa eh tenete presente che eh si sta verificando e può verificarsi sempre eh che eh accedere ai siti tipo Sunnyarp il sistema TS è preferibile sempre farlo dal portale sanità digitale perché sono link controllati vi rimandano sicuramente al sito interessato invece se andate sul google sul motore di ricerca che scrivete Sunnyarp come vedete vi propone quelli sicuramente validi però ne propone anche qui l'antivirus me lo segnala vi ripropone anche siti non sicuri quindi come vedete il sito del Sunnyarp è sicuro il sito della piattaforma FIMG è eh è sicuro però c'è questo sito di questa piattaforma che l'antivirus non lo ritiene sicuro perché evidentemente su quella determinata pagina web ci sono diciamo eh dei dei software dannosi o delle delle istruzioni eh dannose quindi viene viene poi bloccato dall'antivirus però è comunque meglio evitare quindi per accedere ai siti istituzionali è preferibile sempre dal portale sanità digitale o dal portale della della FIMG eh portale MegaELAS ci sono tanti portali affidabili da cui poter trovare i link corretti per i siti istituzionali eh per chi è interessato ad assistenza alla realizzazione di soluzioni personalizzate eh per quanto riguarda la VPN puoi inviare un'email a infochiocciolo ricchiogenaro.it eh io vi eh ringrazio per l'attenzione.